È una storia di speranza quella di Saeed e Al-Adad, due giovani rifugiati afghani di 25 ai 19 anni, che dopo tanta paura di non farcela, dal mese di agosto 2021 sono in Italia, dove hanno trovato la possibilità di una nuova vita. Con l'ingresso dei talebani nelle città afghane hanno lasciato il loro paese, dove avevano un lavoro, una famiglia, dove vivevano bene anche economicamente. In Italia hanno trovato una seconda famiglia, quella della Croce Rossa, in particolare quella di Podenzano. Questo legame è nato alla base di San Polo, dell'aeronautica, quando i rifugiati e i profughi sono arrivati come smistamento di quarantena. Da lì, operando, ovviamente abbiamo visto le loro problematiche, il loro cambiamento di vita, rilasciando comunque a casa propria beni e persone. Perché Croce Rossa non si occupa solo di emergenza urgenza. Croce Rossa non è solo un servizio di emergenza. Noi operiamo anche per aiutare la comunità in tutto per tutto. In questo caso i rifugiati. Un rapporto di solidarietà molto forte che ha portato i volontari di Croce Rossa di Podenzano a raggiungere il gruppo di rifugiati afghani una volta trasferiti sull'appennino bolognese. Lui faceva artista, incisione al mano, che fa incidere su varie cose. Io facevo commercianti, facevo contratti, avevo un negozio, facevo contratti grandi con militari, contingenti militari italiani in Afghanistan. E ti assicuro che il 95% di quelli afghani che sono venuti qui in Italia, tutti vivevano molto molto bene. La brutta memoria che è rimasta a noi di Afghanistan era ultimamente che siamo, è stato in fronte alla porta del porto internazionale afghano Ahmed Karzai, che morevano tante persone e non potevi fare nulla. Ora desiderano restituire ciò che l'Italia e gli italiani hanno dato loro in questi anni. E allora arriva l'appello a trovare loro un lavoro ed un alloggio. Tutti gli afghani vogliono lavorare e amano lavorare. Gli aiuti degli italiani che aiutano a noi per trovare un lavoro, per creare la vita qui in Italia, far sia lavoro può, non cambia a noi.